Allora, approfittiamo di questo momento per chiedervi degli applausi, non per noi, ma ringraziamo Biaggio che si preoccupa di mettere a posto tutti gli strumenti, di risolvere i problemi. Ringraziamo Frankie che fa i suoni per noi sul palco, grazie Frankie. David che sta facendo i suoni per voi, grazie Dave. Luca che sta facendo le luci, grazie Luca. Poi continuiamo, se no ci mettiamo troppo, stasera sono tantissimi a fare qualcosa per noi. La voce nel tuo stereo oggi dice che sei preparato, non relazionato, sorpreso non scoperto, dimmi se mi sbaglio. La mia generazione ha perso, ha perso. Sei ispirato, disarmato, sei, 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 sei quello che non sai. Dimmi se mi sbaglio, come veni a capo di un altro giorno. Oggi è un nuovo giorno, ma tu come stai? Perdo l'equilibrio, ma tu come stai, come stai? Oggi è un nuovo giorno, ma tu come stai? Perdo l'equilibrio, ma tu come stai, come stai? La voce nel tuo stereo oggi dice che suona l'allarme, siamo in allarme. Notte bianca, notte bianco, oggi è un altro brutto giorno. Sei malato, isolato, sei, 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 sei quello che non sai. Dimmi se mi sbaglio, come venire a capo di un altro giorno. Oggi è un nuovo giorno, ma tu come stai? Perdo l'equilibrio, ma tu come stai, come stai? Oggi è un nuovo giorno, ma tu come stai? Perdo l'equilibrio, ma tu come stai, come stai? Ragazzi e ragazze, vi chiediamo un altro favore adesso. Vorremmo vedere tutte le vostre mani su. Tutte le vostre mani su. Ehi! 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 Un altro brutto giorno Nella mia città Fuori scivolare Nella tua città Nella mia città Fuori scivolare Nella tua città Fuori scivolare Nella mia città Nella ma città Nellaاغ Bueno, ero Il nostro 3 Un deterrent